bella ragazzi il carico non mai da più che però ci siamo a mare un servizio inedito da quanto oggi siamo per fare un po i culi il co ma non delle bambine il co riprendimi quanto è pesco grazie comunque siamo qui per fare tunnel tra la gente o fra la gente sulla gente sulla gente per la gente con la gente dentro la gente ok dai andiamo dentro con le glette a chiudere le gambe a a a No! No! Uh! Massima che cammino! Del silenzio non è già via remunato! Ah! Ha! 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 Ehi, quanti trafori andiamo a trovare? Mamma mia ragazzo, avevo trovato un sacco di tunnel, anche se alcuni fail li metterò comunque i fail, alcuni sì, alcuni no. Fail anche se sono interessanti. Molti fan qui sulla spiaggia. Sì, ci hanno chiesto un sacco di foto, soprattutto a Missa Spartacus. Vabbè, lasciate a me mi piace, quanti like chiediamo per questo mini video, diciamo. Vabbè, non mini però. Mille, mille like. Mille e cinquecento, mille e cinquecento mi piace, dai. A meno, a meno. Per un secondo episodio, perché... A mille e cinquecento mi piace, lo porterò la prossima settimana uguale, sono un po' più elaborato, un po' più elaborato. Questa era una prova. Questo esperimento, se vi piace, cliccate, like, e vedete anche cento volte a testa. Ok, passate a G-Walt, oggi mi fissi nuovo e noi ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazza. Bella ragazza. Quedete al mio vi piace. Quedete al mio canale. Un video a cura di Bingo. Chau. Chau. Grazie a tutti.